La famiglia dovrebbe avere bilancio e metro. Finché sei di peso normale, ti pesi una volta all'anno, una volta al mese, ti misuri una volta al mese. Quando entri in zona sovrappeso, inizi un giorno sì e un giorno no. Questo è fondamentale, perché se non segui il problema così da vicino, non lo riuscirai mai a risolverlo e tra l'altro non te ne rendi neanche conto. Quindi il 65% direbbero ma mio figlio ha un peso perfetto. Adesso quel bambino, se tra i 7 e i 18 anni è sovrappeso, il suo rischio a vita di sviluppare diabete quadruplica. Solo per darvi un esempio di come diventa una condanna poi. Hai fatto, hai detto ma mio figlio peso normale, non ti rendi conto di questo sovrappeso tra i 7 e i 18 anni, l'hai appena condannato a 4 volte, un aumento di 4 volte del diabete nella sua vita. E ovviamente un accorciamento probabilmente della durata della vita.